Siamo ospiti presso la ditta partese di Vercelli dove si tiene la prima serata del Vercelli Cotter Week. Antonio Gobbato, i confesercenti, qual è l'idea di fondo di questa manifestazione? L'idea di fondo della manifestazione è quella di contribuire nei confronti dei barman vercellesi e non al finché si ottenga quella professionalità utile perché per noi è fondamentale il fatto che la professionalità dentro le nostre aziende ci aiuti a passare un messaggio importante che la qualità deve essere sempre premiata in funzione della quantità. E la formazione che peso ha all'interno della professione di un pubblico esercizio? È fondamentale. La professione di questo mestiere corre con la velocità della luce. Ciò che si chiamava l'American Bar di ieri, oggi è diventato il disco pub, è diventato tutta un'altra cosa. Per cui senza professionalità le nostre aziende non hanno futuro. Se le nostre aziende invece vogliono crescere devono comunque formarsi. Il bere miscelato per concludere e il bere responsabilmente sono due antitesi o si possono coniugare assieme? Si coniugano proprio solo dato dal fatto che dobbiamo ottenere la qualità. Se riusciamo a far comprendere al consumatore, soprattutto ai giovani, che bere bene non vuol dire bere tanto, otteniamo una simbiosi che ci consente di avere delle aziende che si sentono gratificate e dei giovani che si divertono sul serio. Qual è il ruolo di partese sul mercato piemontese? Sicuramente svolge un ruolo molto importante, un network distributivo molto importante perché riesce a toccare soprattutto molti punti vendita, quindi dal locale serale al diurno. Nel comparto Orica ritengo che partese sia un network di distribuzione professionale, nel senso che non è solo il consegnare un determinato prodotto, ma è una consulenza fatta attraverso il punto vendita. Come descriverebbe il mercato piemontese in questo momento? Il mercato piemontese in questo momento è in netta ripresa, la gente tende sempre di più, comunque il mercato richiede sempre di più, soprattutto un consumo moderato e un consumo di qualità, nel senso che la gente cerca sempre di più di consumare la qualità e non soprattutto la quantità. Di questi tempi si sente parlare tanto di Movida, quanto incide il fenomeno Movida sui consumi? Sicuramente un buon 30%, fatto di Movida notturna, quindi è un comparto secondo me in crescita adesso, nel senso che tende sempre di più ad avere note alte per quanto riguarda la qualità, soprattutto la qualità del prodotto, quindi il bere è soprattutto meglio, la qualità dei prodotti, la ricercatezza e così via. Quanto conta la formazione per un pubblico esercizio? È fondamentale, la formazione è continua per un pubblico esercizio come ormai lo è, lo è un po' per tutti, è diventata formazione continua nell'arco della propria vita professionale. È importante per elevare il livello della propria offerta commerciale, è importante per offrire un prodotto di qualità, è importante i fini di prevenzione. Il pubblico esercizio non ha ovviamente il compito di prevenire, non ha il compito di fare, non deve sostituirsi alle forze di polizia, insomma, però ha il preciso compito di offrire un prodotto di qualità e di educare al bere bene. Insomma, lo scopo era sostanzialmente questo. Poi, da quest'idea di formazione, di miglioramento, di innalzamento del livello professionale dei bar partecipanti, che ripeto, sono già tra i bar migliori di Vercelli, si sono innestate tutte le altre idee, quindi l'idea di promozione commerciale, l'idea di estendere il messaggio anche ai più giovani attraverso il convegno. Ecco, appunto, il convegno riveste un ruolo importante nel vostro progetto. Sì, assolutamente sì. Il messaggio, ripeto, non è quello del divieto, non è non dovete bere, ma è dovete imparare a bere bene, a bere in maniera responsabile, a bere in maniera consapevole, il che significa magari due cocktail fatti bene, con ingredienti di qualità, piuttosto che un grande beverone che poi mi sballa.